Salve a tutti ragazzi, oggi in questo nuovissimo video provo a scappare a 5 stelle di polizia su GTA 5 Intanto ho 3 stelle, ne mancano altre 2 Ahia, mi stiamo scendendo, ahia, mi stiamo sparando No, 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 no No, 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 no per arrivare a 5 stelle però mi penso che non ci riuscire mai se non mi sbaglio potrei si distruggere i 4 e di 8 non posso ok provo a scappare adesso che mi conviene devo smiccare all'infinito 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 che ci potanno proiettile oh cavolo gli sa che non avrei una buona idea barba adesso ormai già l'ho fatto stanno le sono alle poste sono alle poste sono alle volte c'è di suo... nient' e niente ragazzi purtroppo non ci sono riuscito se questo video vi è piaciuto potete anche iscrivervi a tibelare un banerino e ci vediamo al prossimo video ciao